E' ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla riserva naturale del Borsacchio. Ieri è andato in scena l'ultimo atto, quando in seconda commissione il presidente Emiliano Di Matteo non ha accolto le richieste avanzate dal patto per l'Abruzzo. Le opposizioni chiedevano infatti il ripristino della storica perimetrazione della riserva, 1.100 ettari, abrogando l'articolo 25. Il voto favorevole dei soli commissari di maggioranza, invece, ha consentito di riaprire la discussione sul Borsacchio, seguendo il percorso normativo indicato dall'esecutivo. Un grave errore commesso di nuovo dal consigliere Di Matteo, che presideva la seconda commissione. A dieci mesi da quel blitz, durante la legge di stabilità 2024, oggi in commissione la maggioranza di centrodestra ha respinto ogni proposta che arriva dal territorio. Purtroppo questa maggioranza di centrodestra, nonostante fosse stata bocciata anche dal suo stesso governo, circa quella legittimità di quella legge, oggi hanno continuato a non ascoltare il territorio e portare avanti solo il progetto di legge previsto dalla Giunta regionale, che riparte dai soli 24 ettari della riserva del Borsacchio. Il consigliere regionale di azione, Agno Pavone, come portavoce del Comune di Roseto degli Abruzzi, è tornato a chiedere l'approvazione del PAN, il piano di assetto naturalistico, già oggetto di un lungo lavoro di concertazione tra amministrazione comunale e gli uffici competenti della Regione Abruzzo. Ecco, noi diciamo che questa possibilità ci può essere, ma non si può prescindere per il momento, per dare piena attuazione e per rendere attuale, vivibile e anche tutti gli strumenti attuativi della riserva in pieno vigore, ecco, bisogna proseguire con l'approvazione definitiva del piano di assetto naturalistico. Dopodiché c'è la possibilità di aprire un confronto con i rappresentanti territoriali, i rappresentanti ambientali e quant'altro, per cercare di trovare una soluzione che possa essere condivisa nelle dimensioni da tutti nell'interesse della città, nell'interesse degli operatori, nell'interesse anche della collettività regionale.